Era il 12 novembre Insieme alla moglie Delinda Dabon Grimaldi Alla figlia Siglinda Alla madre della moglie Marie Dabon Con le dame di compagnia Claudette Panisse E la moglie del capitano La moglie del capitano La moglie del capitano Capitano La situazione è disperata La città è perduta Ma il nostro bastione è murata impenetrabili Possiamo farcela con l'aiuto di tutti Bene mio signore Uomini E' arrivato il momento Di far vedere al nemico il nostro valore Per Ventimiglia e per Grimaldi 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 Per Grimaldi Pitaro! Com'è la nostra madre? L'hanno ferito! L'hanno scondato! Presto! Tutti dentro! Padre! Qua non scende nessuno adesso! L'hanno scondato! L'hanno scondato! L'hanno scondato! L'hanno scondato! L'hanno scondato! Destrui! Giorno! Destrui! L'avremo anche! Faccio mano! Giorno! L'hanno scondato! Aqui! Destrui! Stai! Vai a capare! Forza sopra! girate i pezzi sono ancora caldi questi sono i cannoni che hanno sparato contro di noi guardate fuori imbastratto mi vince da morto a te portate con me fateci da breve la vedo attempato farà stupo di combattere vuole tornare al suo focolà si vieni 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 Ma vi accomodate? Ma perché l'avete lasciato entrare? Capitano, questa guerra ha troppo sangue è stata fatta. Dimoni! Ho scoperto di essere valorosi combattenti. Aloisio è un grande combattente e ho deciso di prendermi l'onore delle armi se si arrenderà, ma... ... 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 è morto Silenzio! Prendiamo onore con questa croce all'anima di Aloisio Grimaldi. Che Dio lo accolga in paradiso con gli altri condottieri. Destino avverso, un altro Grimaldi muore in battaglia per 20 miglia. Grazie a tutti!